Dottore Aquilanti, siamo venuti qui al Marrelli Hospital perché sappiamo che nel reparto di radioterapia si sta installando un nuovo acceleratore. Perché? È un momento felice per il gruppo Marrelli perché proprio ieri è arrivato il secondo acceleratore lineare che è quindi una seconda macchina per eseguire dei trattamenti radioterapici. Questa macchina era già prevista dal progetto iniziale, però si è reso necessario velocizzare anche un po' i tempi visto la mole di pazienti che sono afferiti al centro dopo la sua apertura. Perché già alla fine del 2019 l'unica macchina che avevamo lavorava veramente a ritmi serrati. Quindi una seconda macchina si è reso necessaria proprio perché il numero dei pazienti era superiore alle aspettative e anche perché avendo una seconda macchina possiamo garantire una continuità dei trattamenti. Qualora una delle due abbia un problema possiamo proseguire senza intoppi con i trattamenti perché interrompere i trattamenti è sempre un rischio per il paziente. In che cosa consiste questa terapia? La radioterapia è una delle terapie oncologiche più importanti insieme alla chirurgia e alla chemioterapia. Si stima che circa il 50% dei pazienti affetti da una patologia oncologica avrà bisogno di ricorrere a un trattamento radioterapico. In più in questa regione, in questa provincia soprattutto, l'incidenza delle patologie oncologiche è più alta rispetto a tante altre zone d'Italia. e ci siamo trovati di fronte quindi a un numero di pazienti purtroppo che non ci aspettavamo. Quindi questa macchina viene in aiuto alla comunità di Crotone e anche delle province vicine perché mentre all'inizio il centro era nato proprio per trattare solo i pazienti di Crotone, adesso arrivano pazienti da province anche lontane, quindi da zone anche lontane della Calabria e anche da fuori la Calabria.